buongiorno e benvenuti in questo nuovo video benvenuti in questo nuovo video spesa allora vedrete la spesa senza glutine che facciamo in parafarmacia usando i buoni perché Maurizio e Gabriele sono celiaci spesa dell'Eurspin e spesa del Lidl e spesa del Bennett iniziamo da quella senza glutine dove abbiamo preso appunto in parafarmacia due pacchi di penne della barilla da 400 grammi un pacco di tortiglioni due pacchi di spaghetti due pacchi di fusilli e due pacchi di talini e rigati poi ho preso queste merendine qui della piacere mediterranei che sono nuove le ho prese per far assaggiare a Gabriele ho ripreso questi biscotti ai 5 cereali che sono quelli con lo yogurt dentro che sono veramente buonissimi un preparato per torte e biscotti mix C della Char un pacco di panini per hot dog della Doria un pacco di fette biscottate integrali piacere mediterranei le fette biscottate sono veramente difficili da trovare buone senza glutine oggi ne abbiamo già provati vari tipi queste qui vediamo come sono speriamo di trovarne un tipo buone un pacco di biscotti bucaneve della Doria un pacco di tortini al cacao della marca inglese un pacco di barrette cerea l'oro dei piaceri mediterranei un pacco di muffin integrali e lamponi della marca inglese un pacco di gallettine gusto mediterraneo e un pacco gusto prosciutto un pacco di patatine gusto formaggio poi un pacco di pan mauretta e cereali classico e un pacco di panini morbidi tre confezioni di wafer un pacco di biscottini mini sorrisi da lasciare questo è tutto quello che abbiamo preso con i buoni poi invece pagando ho preso queste salviette che servono a Sabrina erano in offerta a 99 centesimi e questo sedativo per la tosse per Gabriele che è senza glutine e vediamo un po' se gli fa passare questa tosse che ha proprio solo di gola ecco però non può andare a scuola con la tosse così che comunque lo debilita perciò proviamo a vedere questo qui per quanto riguarda la parafarmacia è tutto adesso passiamo alle cose dell'Eurospin vedrete due spese dell'Eurospin una è quella che ho fatto appena arrivato lo stipendio per coprire due pasti fino a che non sono potuta andare a fare la spesa grossa che vedrete subito dopo quindi andiamo a vedere cosa abbiamo preso all'Eurospin allora eccoci pronti per la prima parte della spesa Eurospin partiamo da qui con due confezioni di uova fresche quelle da 10 che prendiamo sempre questo qui con i yogurt e arancia per fare la colazione a casa domani mattina graffen al cioccolato per un prossimo spuntino da portare a scuola due deodoranti per Sabrina che me li ha chiesti una gazzosa per Maurizio due confezioni di cornetti di mais uno per me e uno per Sabrina una aranciata che si è presa Giada questi Mambo Kids questi Mini Mix che abbiamo preso per Pia Coca Cola in lattina che ha chiesto sempre Maurizio una confezione di bastoncini di merluzzo senza glutine e tre confezioni di fish burger sono di filetto di merluzzo sono da due e così li mangiamo stasera a cena anche questi poi ho preso un gelato di queste vaschette qui per Max questi round chocca nocciola saranno gli ultimi gelati della stagione ma stasera avevano voglia quindi glielo ho presi e ho preso questi tre big choc bianchi con mandorle poi due confezioni di cuori di iceberg una confezione di queste patatine gusto pannacide e cipolla per Giada poi ho preso una, due, tre, quattro, cinque, sei confezioni di Giulien Mental Giulien allora io vi dico è veramente buonissimo è 200 grammi costa 1,49 euro e da mettere sulle torte salate da mettere nelle omelette che faremo domani a pranzo insomma da mettere in queste cose qui è veramente spettacolare poi a me piace tanto l'Emmental quindi se vi piace secondo me è veramente un prezzo anche accettabile e adesso magari sulla pasta no però tipo magari nella pasta al forno piuttosto che nel risotto tipo quello lì che ho fatto gratinato ce lo vedrei molto bene poi due confezioni di grattugiato italiano che è in offerta 0,99 euro tre confezioni di arroppo non c'è la mortadella non c'è la mortadella è questo mortadella è arrosto di petto di pollo no vabbè poi ho preso per me le polpette di soia perché a me non mi va di mangiare il pesce e poi ho preso uno, due, tre, quattro, cinque sì e sacchetti di pane queste qui fatte così con i semini sopra che è la ciabattina siciliana ecco perché sono stata tratta da questa ciabattina qua un euro e trentasette là un euro e venti qui un euro e trentuno e qui un euro e trenta e poi ho preso anche una confezione di questi bocconcini un euro e quattordici da mangiare oggi a pranzo, stasera a cena e domani a pranzo poi gli altri invece li mettiamo nel freezer che comunque siccome ci sono un po' di secondi sicuramente serviranno l'idea è di iniziare a farlo anche io però sono settimane un po' piene queste qua tra riunioni eccetera eccetera quindi al momento non ho la possibilità di farlo appena mi libererò un pochettino vorrei farlo io a casa comunque poi un pacco di kraften con crema pasticcera che dentro ce ne sono sei un pacco di duetto a julienne e questo qui è tutto quello che abbiamo preso Sabina si è presa la beer? si è presa la coca cola ah e poi si è presa anche una confezione di chewing gum si cornetti l'ho detto e poi una confezione di chewing gum che però si è già portata via e in tutto speso ve lo lascio scritto qui comunque 60 euro e niente ho preso delle cose anche per i prossimi giorni per la prossima settimana tipo il pane il julienne è mental tanto per farvi vedere scade il 6 di dicembre è una grande offerta quindi se vi piace e magari fate torte salate e cose così vista la scadenza io vi direi di provare a prenderlo perché comunque ah scusate anche un pacco di carottine a julienne che erano sotto non l'ho vista vi consiglierei di andarlo a prendere perché è veramente secondo me è un ottimo prezzo considerato che la busta di grana padano che è due etti costa quasi 3 euro per fare magari torte salate eccetera eccetera potrebbe alcuni piatti diciamo potrebbe andare meglio questo qui che costa la metà comunque detto questo io adesso vi saluto ci vediamo tra un secondo per voi con la spesa grande di sempre di euro spin ed eccoci qui con la seconda parte della spesa di euro spin iniziamo dallo scottex ho preso questo qui forte assorbe tanto resiste di più vedremo vi farò sapere la nostra solita cartigenica la delicata che era anche in offerta due sacchi da 4 kg di patate poi un pacco una confezione di sacchi quelli per la pattumiera piccoli trasparenti un sale per la lavastoviglie un sale grosso per la pasta poi abbiamo preso 8 fruttini di vari gusti hanno scelto mela, banana pera e mela e frutti rossi giusto? anche mela da solo poi una confezione di sbarazzini queste qui sono 8 pratiche confezioni sono comodissime da portare a scuola una confezione di un pacchetto di frollini con gocce di cioccolato un pacchetto di frollini con confettura di mele tipo i cuor di mela una marmellata ai miartilli questa qui senza zuccheri aggiunti una un barattolo di fagioli di cannellini 6 barattolini di vitamina C per il sistema immunitario una confezione di crocchette per il cane queste qui con pollo e stacchino sono quelle premium una confezione di lettiera per i gatti un pacco di riso basmati da un chilo 2 barattoli di salsa tonnata che è senza glutine un pacco di rasoio bilama un pacco di sedani rigati 3 pacchi di ceci secchi una confezione di multipack wafer alla nocciola una confezione di assorbenti giorno 2 confezioni di mezze penne rigate una confezione di crostatine con crema alle nocciole e cacao un pacco di fusilli da un chilo un pacco di fazzoletti questi qua sono la confezione grande che dentro ce ne sono tantissimi e veramente ci troviamo bene ero all'eurospin e li ho presi qua se no chi mi segue da un po' sa che preferisco quelli del lid perché hanno i pacchettini tutti colorati ma solamente per una questione estetica e basta il prezzo è lo stesso tra quelli dell'eurospin e quelli del lid due barattoli di maionese poi un pacco di proteggi slip questi qui distesi di latte ne abbiamo presi 6 parzialmente scremato e 6 intero per fare lo yogurt una confezione di gel per la lavastoviglie una confezione di questi tortini con carote e mandorle 6 pacchi di pan carré 2 pacchi di zucchero grezzo di canna un pacco di farfalle da 500 grammi un pacco di celentani da 500 grammi 2 cavolfiori che sono in offerta un pacco di queste sfoglie di cioccolato con ripieno alla menta un pacco di queste patatine tris 6 buste da portare a scuola e 2 confezioni da 3 bricchetti l'uno di questo latte e cioccolato per questa prima parte della seconda parte della spesa dell'eurospin vi ho fatto vedere tutto adesso stringo e vi faccio vedere il resto eccoci qui con la seconda parte della seconda parte della spesa di eurospin allora ho preso 6 buste di grattugiato italiano che erano in offerta 99 centesimi sempre per cucinare ne ho preso un po' di più e lo metterò nel freezer perché visto che erano in offerta comunque avete visto che faccio tante torte salate eccetera eccetera preferisco averlo e tenerlo nel freezer così almeno per le prossime settimane se anche non fosse in offerta noi ce l'abbiamo un mix di formaggi grattugiati al pecorino due confezioni di chele di surimi impanate queste qui sono senza glutine senza lattosio poi ho preso vedrete dei dolciumi che sono visto che comunque ci stiamo avvicinando ad Halloween volevo preparare sacchettini come ho fatto questi altri anni sia per i miei ragazzi bambini questi qua quindi saranno solamente per loro sia anche per i bambini che verranno a fare dolcetto scherzetto questi qua li ho presi per i miei che però pensavo che erano incartati singolarmente e invece come vedete sono sono cioè c'è la confezione poi ci sono questi denti li terrò da parte e li darò la sera di Halloween perché non credo faremo la cena quest'anno perché appunto andremo a vedere Max che balla quindi non credo proprio che riusciremo a fare la cena come gli altri anni però ecco un dolcino così un po' più cioccolatoso ci sta poi ho preso questa confezione con infezione di gelée morbido con succo di frutta queste qui sono solo aromi naturali senza additivi coloranti senza glutine e appunto ne metterò un pochettino a loro e poi anche ai bambini e poi ho preso i lecca lecca che sono in offerta e non sono tantissime le varietà di caramelle però se da qui ad Halloween dovessero mettere in offerta qualche altro tipo di caramella chiuso così singolarmente lo prenderò e così almeno potrò fare dei sacchettini un pochettino più cicciottosi perché l'idea è di mettere un lecca lecca a testa in modo da fare i miei e riuscire a fare un po' di sacchettini per chi verrà poi se dei sacchettini avanzeranno se li prenderanno i miei altrimenti li daremo tutti anche agli altri bambini poi una confezione di cipolle bianche una confezione di cipolle dorate una confezione di focacce con olio extravergine d'oliva queste qui sono sei pratiche confezioni e sono ottime da portare a scuola una confezione di prezzemolo surgelato due pacchi di tortellini super fini che sono in offerta sono quelli da 500 grammi ecco qui quattro ricotte un gorgonzola dop dolce una confezione di taralli anche questo qui sei pratiche confezioni sono perfette da portare a scuola per lo spuntino due confezioni di broccoli a rosette tre confezioni di fish burger di filetto di merluzzo una confezione di caramelle al caffè queste qui sono per Maurizio due confezioni di crescenza due confezioni di julienne nemmental ne ho prese altre due perché è veramente per torte salate eccetera è veramente buonissimo una pasta sfoglia rotonda una confezione di cioè due confezioni di gallette di riso ricoperte gusto yogurt arancia e due confezioni di piselli finissimi e infine due cioè una confezione di spinaci a cubetti e per quanto riguarda la spesa dell'euro spin è finita adesso vi scriverò qui quanto speso e passiamo alla spesa del Bennett allora cominciamo dalle cose grosse ho preso queste crocchette ma sì i mammati davanti non si vedono queste crocchette per il cane sono di questa marca qui non le ho mai prese vediamo un po' se gli piacciono perché ho gli espriguti un po' particolari e poi queste qua invece marchiate Bennett che invece le ho già preso so che gli piacciono e quindi glielo ho riprese poi no poi questa trita che ci servirà stasera volevo fare pasta e carciofi ma i carciofi non c'erano come sempre a Lidl ogni volta che sono in offerta non riesco mai mai a prenderli facciamo carne trita e piselli guarda che faccio guarda che felicità tu fa no perché deve cuocere non abbiamo il tempo adesso quindi facciamo vai vai quindi facciamo una pasta bianca un condimento bianco poi una confezione di questi mini burger della marca Roberto che erano scontati al 50% poi sempre marchio Bennett tigrissini spiziosi salati in superficie anche questi qua erano scontati questi pandistelle biscocrema con crema pandistelle ce ne sono dentro sei da due biscotti anche questi qua erano scontati poi abbiamo provato a prendere la nutella quella veg perché sono tutti curiosi di assaggiarla vedremo come sarà dei bambini noi poi un latte di cocco che ci servirà per fare una ricettina particolare da provare spero ma ben poi una confezione così di lime mi serviranno anche questi per una ricetta un mini pandorino ricetta classica per pia e un mini panettone al cioccolato per giada poi ho trovato questo lievito della pane negli angeli per dolci e salati questo qui per la friggitrice ad aria è fatto apposta e questo qui è consigliato da fatto in casa la benedetta l'avevo visto in una live mi sembra in un video allora l'ho preso per provarlo vediamo un po' tanto volevo provare a fare dei dolci in friggitrice ad aria vediamo un po' come vengono una confezione di salsiccia che è senza glutine ed è 8 etti 80 poi questa spezia che è il garam masala l'abbiamo trovato appunto al benedetta e sapevo che negli altri supermercati discount non l'avrei mai trovato e ci servirà anche questa per fare una recettina maggiorana che non ce l'abbiamo poi ho preso due barrette di cioccolato queste qui marchio benedetta al 72% e al 60% per preparare dei dolci o se vogliono mangiarsene un quadratino io non ci penso proprio poi tre peperoni gialli che abbiamo pagato 2 euro e 07 tre peperoni rossi che abbiamo pagato 1 euro e 92 poi questo succo della san benedetto succoso arancia arancia rossa questo qui era scontato 87 centesimi perché qua la parte in alto è un po' schiacciata ma noi non ci importa quindi queste due coca cole zero zuccheri anche queste qui erano scontate a 44 centesimi quindi gliel'ho presa ai ragazzi un olio extravergine di oliva 100% italiano del marchio benedetto questo qui è fruttato medio equilibrato lo proviamo e siccome era in offerta e costava 8 euro e 99 invece che 10 e qualche cosa ho preso questo vedremo come sarà questi biscotti ciocco e avena con farina di ciocchi d'avena e cioccolato senza zuccheri aggiunti li ho presi da far provare ai ragazzi anche questi qua erano scontati e la scadenza è il 21 di novembre ma tanto non ci arrivano state tranquilli Giada ha voluto provare che ha trovato questo bubble tea alla pesca io mi sono presa una bottiglietta d'acqua frizzante poi scontate c'erano anche queste due bottigliette di Sprite cioè la Sprite e noi abbiamo preso due bottigliette Manuel ha chiesto questo Isofit Sport Drink arancia rossa e si è preso anche una bottiglietta d'acqua cioè una bottiglia d'acqua naturale grande da tenersi in camera perché ha detto che di notte si sveglia che ha sete quindi almeno ce l'ha questo è tutto quello che abbiamo preso al Bennett abbiamo speso 59 euro e qualche cosa ve lo lascerò scritto comunque qui e niente adesso passiamo alla spesa del Lidl di Lidl ecco qui la roba dell'igle partiamo con una bresaola di tacchino massimo 2% di grassi era in offerta e l'ho presa per fare i panini a Gabriele per fare una torta salata e pure senza glutine escare comunque il 16 di dicembre quindi non è che c'è fretta di mangiarla domani poi un petto di pollo cotto al forno anche questo qua massimo 2% di grassi anche questo qui è senza lattosio non c'è scritto però senza glutine e quindi anche questo qua era in offerta l'ho preso sempre per lo stesso motivo una confezione di mele XXL queste qui rosse una confezione di piselli fini questi qua surgelati appunto volevo prendere i carciofi non c'erano niente zero e allora abbiamo optato per i piselli una confezione di albume d'uovo XXL una confezione di mozzarella queste qui 4x250 grammi 6 confezioni di mix grattugiato questo qui da 150 grammi per questo avevo in offerta avevo un coupon quindi l'ho pagato veramente poco e comunque da mettere tipo sempre nelle torte salate in queste cose qui va benissimo poi 4 tofu affumicato anche questo qua è senza glutine e quindi lo prendo per fare appunto il tofu per dare comunque sempre proteine però non animali 3 yogurt bianco intero per farlo yogurt 2 di lievito questo qui fresco poi ho preso delle base per focaccia che sono molto buone anche per fare la pizza viene leggermente più alta che invece con la base della pizza ed erano scontate erano a 1,03 euro e le ho prese ne ho prese 6 se non sbaglio le metto in freezer e poi le tirerò fuori al bisogno per appunto preparargli una colazione una merenda più che altro una colazione magari da portare a scuola per portare qualcosa di diverso oppure anche una merenda vabbè poi 3 paste sfoglie queste qui rotonde sia per fare torte salate che qualsiasi altra cosa ci viene in mente anche di questa ne ho presa e avevo un coupon e quindi per quello che l'ho presa poi anche c'era questa pancetta dolce a cubetti e anche di questa qua avevo un coupon quindi ne ho prese era in offerta ne ho prese 6 quindi l'ho pagata veramente poco mettiamo via questa roba fresca e vi faccio vedere il resto una busta di vanillina pane angeli a 59 centesimi mi sembra veramente pochissimo un caffè gimoca gran gusto poi gallette di riso ho preso sia queste qui col cioccolato al latte cocco sia quelle solo cioccolato al latte due confezioni due confezioni per la colazione a casa poi da portare a scuola queste merendine farcite all'arancia da mangiare a casa ho preso quattro confezioni di sfogliatine glassate quindi una volta galletta di riso una volta glassatine sfogliatine una volta magari gli preparo pane marmellata una volta magari faccio io una torta insomma una focaccia abbiamo un po' di cose poi due multivitaminici questi qui sono senza glutine li prendo per Maurizio e Gabriele qui c'è la scritta poi ah ecco dove eri poi due confezioni di polvere lievitante anche questa qua come vedete senza glutine funziona benissimo nei dolci ce ne sono tante bustine costano poco e mi ci trovo bene poi un pandoro lo so che ancora è presto ma ve l'ho detto che io sono già in mood natalizio e non è l'unica cosa che ho preso e quindi abbiamo preso un pandoro classico per queste cipolline avevo un coupon che mi levava al 45% quindi le ho prese perché comunque io non le mangio ma magari Maurizio e ragazzi sì e quindi le ho prese così come sfiziosità magari prima come aperitivo oppure le teniamo da parte magari per Natale vedremo oppure se non ho cipolle vanno bene anche queste le ho usate come soffritto poi due confezioni di carote che erano in offerta una confezione XXL di fiocchi d'avena integrali perché così Manuel si può fare il suo amato porridge un sale per la vastoviglie due confezioni di zucchero una bottiglia di detersivo liquido per la vastoviglie quattro passate di pomodoro della marca Campolargo una confezione di pomodori secchi un barattolo che erano in offerta due confezioni due barattoli di marmellata ho preso fragole e frutti di bosco queste qua anche sono senza glutine non lo sono più erano senza glutine queste senza glutine quelle frutti di bosco e invece quella alle fragole poi due barattoli di tomato ketchup anche questo qui è senza glutine due confezioni di mezze penne rigate quattro confezioni di pan bauletto bianco per questo qui avevo un coupon e quindi l'ho pre tanto dovevo prenderlo allora ho preso questo qua almeno l'ho pagato meno poi appunto sempre della linea diciamo natalizia ho preso queste due creme spalmabili al biscotto speziato questa qui è liscia e invece questa qui è crunchy quindi pezzettini di biscotto io adesso ormai non la posso mangiare più però quando potevo ancora mangiarla l'avevo provata buone tutte e due questa qui a me piaceva di più però veramente buone 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 da provare poi anche per questo avevo un coupon questo zucchero vanigliato e quindi l'ho preso di nuovo un barattolo di crema 100% di arachidi questo qui lo usiamo appunto nelle nostre preparazioni con la marmellata una confezione di gocce di cioccolato e due confezioni di banane scusatemi se magari è un po' scuro ma ecco sono io che sono davanti alla luce e niente sposto questa roba e vi faccio vedere l'ultima mannata due pacchi di sedani rigati una confezione di tonno all'olio di semi di girassone 4 confezioni XXL di uova italiane ce ne sono dentro 18 in ogni confezione ne ho prese 4 una zucca butternut una confezione di biscotti da 700 grammi era in offerta poi abbiamo preso 7 pappe per i cani e 14 pappe per i gatti due di queste pagnotte di pane bianco per cui avevo un coupon e ho pensato di metterle in freezer e poi quando mangiamo qualcosa per cui serve il pane la tiriamo fuori la facciamo scongelare la tagliamo a fette così loro hanno il pane anche qui deverei iniziare a farlo io come ho già detto ma per adesso non riesco perché è veramente ottobre è super pieno e quindi mi serve da avere del pane poi ho preso queste crocchette per olivia crocchette pesce e verdura per i gatti e anche queste qui pollo mangio e verdura e basta questa è tutta la spesa dell'idle per i gatti per i gatti ed è anche tutta la spesa che abbiamo fatto in generale fatemi sapere se voi avete mai provato quelle cose lì natalizie quelle creme e biscotti speziati se vi piacciono se vi piace il porridge se ne andate a mano mi piace tantissimo ed è per questo che gli ho preso questi fiocchi d'avena ce ne sono tanti li mettiamo in un bel contenitore e così almeno se lo può preparare e se avete già cominciato a mangiare il pandoro anche se ancora non è il momento vi lascerò scritto qui il totale di tutta la spesa quindi Eurospin, Lidl, Bennett, ecc e vediamo un po' se sono stata nel budget se ho sforato di un pochino non lo so perché comunque la roba ci serve poi può anche essere che qualche cosa magari ci avanzerà anche per le prossime settimane e quindi vedremo poi strada facendo detto questo io vi ringrazio se avete guardato questo video fino a qui e vi mando un bacione grande e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao ciao